Dupont, se dovessi definirlo con una parola, beh, direi che quel ragazzo ha del genio. È un vero autentico diamante grezzo. La domanda che mi sono posto è stata questa. Devo cesellarlo e renderlo puro e raffinato o devo consentirgli di rimanere magari meno perfetto, ma in tutta la sua dimensione? Questo è il problema. La domanda che mi sono posto è stata questa. La domanda che mi sono posto è stata questa. E Patrick ha abordato questo con grande humilità. Che il film non ha mai avuto più di senti, più di successo, più di contacto con il pubblico, perché mi ha fatto la pena molto più per lui che per me. Perché io... La domanda che mi ha parlato. Non credo. C'è parto, Dugo. C'è parto. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti, più di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più 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 di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti, più di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti, più di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato di senti. La domanda che mi ha parlato di senti, più di senti. La domanda che mi ha parlato 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 di senti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.